L'emozione di un paesaggio, di un volto e mostra con 33 opere che sino al 22 luglio saranno ammirabili a Palazzo Fibioni, sede del Comune, in una bellissima sala al secondo piano. Emozioni su tela, infatti, è il titolo della personale dell'artista Valeria Ferrarese, ritrattista e paesaggista aquilana. Valeria Ferrarese, emozioni sulla tela, una personale di pittura, che cosa c'è in questa mostra? In questa mostra ci sono paesaggi, ritratti, tutto ciò che mi colpisce porto sulla tela. Le emozioni, appunto. Le emozioni, sì, emozioni di un momento e le fermo nel tempo, praticamente. Quante opere ci sono nella sua personale? Qui ci sono 33 opere. E la mostra, fino a quando resterà aperta, invitiamo anche gli aquilani a venirla a vedere. Sì, rimane aperta fino al 22 luglio, aperta anche il sabato e la domenica di pomeriggio, dalle 16 alle 19. e la domenica di pomeriggio, dalle 16 alle 19.